Lucia Chierici, avvocatessa Aretina, candidata al Collegio Uninominale di Arezzo per il Terzo Polo, Azione Italia Viva. Ecco, come sta vivendo questa esperienza? La vivo con entusiasmo, con emozione, perché è una mia prima esperienza, anche se la politica mi ha sempre interessato e ho sempre circuitato intorno, perché comunque sono stata candidata anche al Consiglio Comunale di Arezzo nei tempi passati. Però sono state tutte esperienze che sono state intersecate con la mia vita familiare, e che quindi sono state limitate proprio nella mia espressione massima. Mentre invece in questo momento ho avuto un'occasione veramente eccezionale che mi ha gratificato tantissimo da Calende Renzi, per cui è un'esperienza che vivo appieno. Un light motive della campagna elettorale di Calende, di tutto il partito di azione, è proprio sul serio. Ecco, finora la politica non ha fatto sul serio? Io credo che non abbia fatto sul serio, perché il problema è quello di non affrontare i problemi sul serio. Cioè, bisogna essere pragmatici, dire agli elettori quello che non si può fare. Purtroppo invece molto spesso si trovano lanciate le campagne elettorali delle promesse, che però non sono serie, e questo non ci appartiene. Ecco, allora, temi nazionali, si parla sempre di più di una fantomatica, anche per certi aspetti, agenda Draghi, ma c'è anche un'agenda Rizzo. Allora, quali sono i temi del territorio? I temi del territorio sono dei temi che, chiaramente, trattandosi di elezioni politiche, debbono discendere proprio dal tema politico. E i temi del territorio sono quelli che, diciamo, coinvolgono tutta l'Italia, il caro bollette, il problema delle famiglie, i problemi dei servizi sociali che ci sono o non ci sono e mancano, il problema delle donne che hanno perso il posto di lavoro, che devono rientrare, il problema degli anziani, il problema dei caregiver. Sono problemi a livello nazionale che, chiaramente, io con il mio impegno cercherò di calare sul territorio aretino, ma sono problemi di livello nazionale. Forse il più grande avversario di questa, diciamo, tornata elettorale è l'astenzionismo. Come cerchete di avvicinare le fette della popolazione più inattive dal punto di vista politico? Dunque, per quanto riguarda l'astenzionismo siamo consapevoli del fatto che siano una parte di persone disilluse dalla politica e noi siamo come Terzo Polo Italia Viva Azione, siamo insieme una lista che vuole proprio scuotere le coscienze e dire possiamo farcela, siamo tutte persone che proveniamo dalla società civile, il mio impegno tra l'altro lo dimostra e avere questa opportunità è la stessa opportunità che diamo a tutti coloro che non sanno più chi votare. Ecco, in questo collegio uninominale è un po' sotto riflettore la sfida tra due big, Vincenzo Ceccarelli e Tiziana Nisini. Come si districherà in questo incontro? Ma io penso che mi districherò bene perché penso di essere una proposta intanto valida da un punto di vista del territorio perché diciamo che si stanno contrastando e misurando sulla loro aretinità. Vedo che Tiziana Nisini non è assolutamente aretina per cui non può essere espressione del territorio di Arezzo e Vincenzo Ceccarelli è una persona che ha grande esperienza politica però ricordo anche che quando gli fu chiesto di mettersi a servizio della città di Arezzo come sindaco si tirò indietro. Per cui io credo di essere espressione del territorio aretino nella massima misura e poter riconquistare gli aretini che forse in queste altre due persone non si ritrovano.